Siamo a Riva Ligure, sul mare. Oggi è il 9 marzo, quindi siamo in pieno inverno. Infatti, come si può vedere, il mare è tipicamente invernale, fa freddo, piove, c'è la nese. Il clima è tipicamente invernale, perfettamente in sintonia con le previsioni di Rai News 24 che oggi davano cielo nuvoloso in Liguria. Oggi, secondo Rai News 24, cielo nuvoloso in Liguria. Quindi giornata tipicamente invernale. Siamo a Riva Ligure, nella riviera dei Fiori, a circa 10 chilometri dal casino di Sanremo, quindi dal centro di Sanremo, a 30 chilometri dalle montagne innevate delle Alpi Liguri. La giornata è veramente stupenda. C'è un sole e un mare che ricordano certamente molto di più il mese di giugno che non l'inizio del mese di marzo in cui siamo. Se volete godere di questo mare, venite all'albergo Lucciola, a Santo Stefano al mare, esattamente al centro delle immagini, dove vedete quegli alberi di quelle barche, dove vedete quella gru. Sulla sinistra c'è la torre a nove lati del comune di Santo Stefano. In quella direzione, a 500 metri, c'è l'albergo Lucciola di Santo Stefano al mare.